ancora buon viaggio buona serata da Firenze Smart Mauro Ciutini in studio sulla 11 tra il bivio a 11 a 1 Milano Napoli e Prato Est c'è un veicolo fermo in direzione di Pisa mezzi in lento movimento segnalati sulla 1 tra Arezzo e Monte San Savino direzione Roma sempre sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze in pruneta personale su strada la direzione è quella per Bologna rallentamenti anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze sempre sulla FIPILI CODE per la viabilità esterna che non riceve in uscita la strassigna provenendo da Firenze e per i lavori a Firenze in via del Ronco la strada sarà chiusa lunedì 3 aprile orario 9 18 per un trasloco. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze